Siamo qui con Samuele Beretta, centrocampista agli Orizzonti United. Da allora Samuele una grande vittoria contro un grande avversario. Che partita è stata? È stata una partita, l'abbiamo preparata bene durante la settimana. Sapevamo i loro valori, sapevamo che comunque avevano qualche defezione davanti, però l'abbiamo approcciata nel modo giusto, con la cattiveria giusta e siamo riusciti a strappare tre punti importantissimi. La dimostrazione di quello che dici è che il miglior attacco del campionato con 41 reti oggi si è reso quasi mai pericoloso. Quasi mai pericoloso perché siamo stati bravi noi appunto, l'abbiamo preparata bene durante la settimana, sapevamo i loro punti di forza, abbiamo saputo arginarli e comunque loro hanno trovato la miglior difesa del campionato. Adesso si è chiuso il girone di andata, una valutazione sul percorso degli orizzonti? Abbiamo un bel percorso, nonostante qualche, durante la stagione, i vari Camilli fuori tre giornate, Carini, anche lui fuori tre giornate, siamo ancora lì a ridosso delle prime, era importante finire sopra i 30 il girone d'andata e adesso incontriamo il banchetto e speriamo di finire l'anno in bellezza. Invece sul piano personale come valuti il tuo girone d'andata? Il piano personale è iniziato bene, poi ho avuto un po' un declino, però adesso mi sono ripreso e devo continuare così e spero di fare almeno qualche gol.